Musica Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Oggi il video decorazione agenda è la settimana che va dal 12 al 18 di febbraio quindi la settimana di San Valentino ovviamente andrò a go go di cuori inizio come al solito con le timbrate ho deciso che i giorni, i numeri andrò a scriverli dentro ad un cuore e poi timbrerò i giorni della settimana lo faccio con l'inchiostro ovviamente rosso e andrò a provare il tamponcino che ho preso da Tiger quindi proviamo i tamponcini nuovi iniziamo subito iniziamo subito iniziamo subito Perfetto, vado a scrivere i giorni quindi abbiamo detto dal 12 al 18 ora vado con gli washi iniziamo subito 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 Anche fin troppo Nel senso che ho voluto mettere tutti gli wash a cuore Che avevo visto che non ho trovato Quelli di Tiger Per cui mi sono sbizzarrita con questi Allora Niente qua adesso vado a scrivere Weekend E ora vado Vado ad attaccare gli stickers Quelli che ho preso da Tiger Poi vado ad utilizzare E anche i timbrini che avevo preso Allora ultima cosa Vorrei attaccare Le paillettes Queste che avevo preso da Ali Ali Express E queste che ho preso da Tiger Quindi vado di colla Metto un po' di colla glitter Qui Sulle timbrate che ho fatto E niente direi che Basta così Vado ad inserirla in agenda Ecco la settimana inserita Anche qui aspetto un attimino Mettere questo Perché appunto c'è la colla glitter Che deve asciugare Niente Spero che vi piaccia A me non dispiace E' molto piena Però diciamo che Non credo di avere tante cose da scrivere Per cui Va benissimo così Mi raccomando Mettete un bel pollice in su Commentate il video Per farmi capire Quello che ne pensate E ovviamente Ci vediamo al prossimo video Ciao Ah e buon San Valentino Tutti Mua